Stavo per andare a struccarmi, mi sono ricordato di avere questo account, quindi ho detto facciamo un video qui. Dato che sull'altro profilo nei commenti spesso leggo tipo un po' di biavestite che mi dicono amore mi manchi che parli, eh. Oggi mi sono svegliato un po' pazzerello, ho detto dai, da oggi faccio video parlati qui. Stamattina questo trucco che ho adotto, giuro, era bello. Adesso un po' sminchettino. Aggiorno un po' sulla mia vita personale, allora, ci sono dei cambiamenti. Perché? Perché se prima ero sempre sempre a ballare e stavo due giorni a casa, adesso sono invecchiato, cioè ma non perché adesso faccia più freddo o roba di questo genere, ma proprio il mio corpo non regge più. Se devo pensare a stare tipo 5-6 ore in piedi a ballare, no, non è che adesso proprio sono suora di Calcutta, però comunque, no, suora, madre, Teresa, Maria, non lo so. Vabbè, comunque, ovviamente esco comunque a sapere di...